Buonasera e come tutte le sere scorse la cosa più importante ma anche più chiarificatrice è vedere insieme i dati di queste 24 ore come sono stati diffusi dalla protezione civile. Attualmente positivi sono 10.590 persone, sono oltre 2.000, 2.076 più di ieri. Il totale dei guariti è 1.045, 41 solo più di ieri. Il totale dei deceduti è 827, 196 in più di ieri. I casi totali sono 12.462 più 2.313 rispetto a ieri. Avete visto quel 196, il numero di morti in più e anche quel totale di morti. Ebbene di quel totale e di quei morti in più in solo 24 ore praticamente anzi precisamente tre quarti sono stati, sono avvenuti in Lombardia. La Lombardia ha anche due terzi delle vittime di tutta l'Europa. È evidentemente l'epicentro di questa gravissima epidemia. La Lombardia ha anche due terzi delle vittime di tutta l'Europa.